Guido Gentile piano sequenza lo mettiamo insieme perché è giusto che sia così amico prima di tutto poi giornalista critico cinematografico però ora lo faccio presentare Guido Gentile che vi dirà anche che cosa stiamo per fare che è la cosa più difficile di questo mondo per me parlare di me stesso comunque si formalmente sono iscritto all'alba dei giornalisti da ormai tanti anni sono anche scritto al sindacato critici cinematografici italiani e insegno linguaggio cinematografico ma la cosa più importante insomma che è suppressante ma devo dire sempre molto garbato e cordiale invito di Francesco abbiamo deciso di inaugurare questa rubrica adesso si dice format contenuto scegliete voi il termine più che più vi piace dove analizzeremo l'aspetto fotografico particolarmente il concetto di un film alternando insomma contenuti come si dice registrati e se poi comunque questa iniziativa vi piacerà sempre su richiesta dell'ottimo istancabile francesco anche qualche questa qualche diretta abbiamo e subito poi passo la parola a te io in seguito delle chiacchierate che abbiamo fatto insieme ho individuato su sua richiesta solo cinque film perché sennò poi la rosa era troppo ampia che avessero delle caratteristiche fotografiche potenzialmente interessanti molto particolari e che comunque si sposano un po con la vostra filosofia di vita e artistica che state mettendo un essere ormai da qualche anno con insomma con bei risultati lasciate proprio poi partire perché Francesco ha scelto Manhattan che è appunto del 1979 regia di Woody Allen ma non interessa la direzione della fotografia di Gordon Willis allora prima di arrivare a Manhattan c'è questo punto se nome fondamentale che è quello dell'ispirazione che deve essere dal mio punto di vista non deve essere mai una contaminazione negativa ma deve essere sempre un'ispirazione sono due cose differenti perché poi c'è la tendenza io direi quasi alla copia noi in molti casi però invece l'ispirazione dal cinema è un'aspirazione molto interessante soprattutto per determinati generi fotografici come quello della fotografia di strada che una fotografia più narrativa e quindi mi ha colpito Manhattan molto per per la lo conoscevo però per la sua per la capacità che ha avuto Gordon Willis di accompagnare poi la storia l'ho trovato molto interessante parliamo di questo ma io credo che gran parte di quello che poi diremo nelle prossimi episodi di questo nuovo format o nelle live dove ti farò un po' di domande complesse sarà molto orientato proprio all'ispirazione che i fotografi possono ricevere dal dal cinema per questo ti ho chiamato in aiuto su questo argomento perché mi serviva una competenza tra le altre cose questo video rientrerà per la prima volta di questo su questo canale in due ben due playlist perché una cosa che si può fare che quella specialist cioè degli specialisti che io chiamo e tu quindi sei il primo specialist e poi dopo del io lo chiamerò fotografia e cinema poi per gli eventi tuoi te lo organizzerai tu della playlist quindi sul tuo canale è bello perché nella tua presentazione tu non hai parlato di piano sequenza no io ho veramente poi pensano le persone pensano comunque live un tipo con valerio che che qualcosa è preparato ma anche dal vivo io preferisco far parlare le opere credo che uno dei più bei complimenti che mi sia stato fatto io parlo sempre delle critiche non sono mai soddisfatto di me stesso fu proprio quello detto tu lasci parlare l'opera attraverso te stesso non ti metti mai sopra le opere quindi puoi immaginare quanta fatica che possa fare a parlare e pubblicizzare la cosa interessante quindi di nuovo mi metti in imbarazzo e che tu hai scelto inconsapevolmente lo vedremo cammin facendo nella nostra chiacchierata un direttore della fotografia che è stato purtroppo è scomparso qualche anno fa molto particolare non solo come carriera ma anche come vita e che aveva anche questo approccio quello che non devi non devi copiare cioè copiare oltre che è arido rischi di far disastri e quindi la parola che è stato tu questa ispirazione che deve essere un'ispirazione che comunque poi fa valorizzare quelle che poi possono essere delle caratteristiche peculiari in ciascuno di noi in qualunque ambito quindi questo è un aspetto tu non lo sapevi non poi lessi la biografia di colomist estremamente peculiare della della sua vita però insomma non so da dove vuoi cominciare io ti seguo a ruota allora io allora banatta storia di queste diciamo due coppie e mezzo lo possiamo dire e si svolge a new york 1979 poi di questi aspetti narrativi ne parlerai di più tu e noi abbiamo preparato un po di cose fondamentalmente 26 frame più o meno mi sembra che siano 26 27 26 frame che possono essere un'analisi tecnica del lavoro di gordon willis su sul tema su new york e poi la vita a new york quindi come lui accompagna con la sua fotografia poi la storia che io vi invito ad andare a vedere un film che riuscite a trovare anche streaming e quindi noi come al solito ci siamo complicati un po la vita vediamo andiamo proprio all'inizio ok al primo dove la storia inizia eccolo qua scusatemi però era necessario partire all'inizio la storia inizia poi in questa new york e con questa voce fuori campo dello scrittore che prova più inizi del suo libro quindi prova a raccontare new york la sua vita new york che poi ogni volta cancella e ricomincia appunto e da capo ed è bello perché gordon willis poi a questo punto preferisce accompagnare questo racconto con una vera e propria zoomata le fotografie che noi in questo momento stiamo presentando sono rappresentano proprio la zoomata che viene fatta e accompagna la voce quindi si parte da una new york vista in lontananza con le silhouette dei palazzi per arrivare ad una new york più di strada e quindi non è più è sempre una panoramica però ovviamente più da vicino più ravvicinata sulla strada e qua già si comincia a vedere una delle sue caratteristiche che è quella poi tipico del bianco e nero perché il film se è tutto in bianco e nero quella di gestire è il contrasto quindi di ricercare il contrasto quale miglior contrasto della neve e dei palazzi creano bianco e nero e quindi ci sono i due punti estremi che ci accompagnerà poi il bianco e nero per tutto il film non solo come scelta stilistica ma come in ogni frame punto di bianco e punto di nero con poche gradazioni quindi un bianco e nero molto contrastato ci si avvicina ancora in questa zoomata ci si avvicina sempre di più a quella che è poi il concetto della vita qui texture fantastica con la vita dello sfondo di due ragazzi che giocano a pallacanestro quindi qui è chiaro come ci si sta avvicinando a un qualche cosa che è la vita a new york prima la si guarda nell'architettura per poi dopo entrare è bello perché già questo è il racconto un primo racconto tipica fotografia poi io direi con un termine che non a me non piace perché la street photography non esiste ma tipica fotografia di street photography dove c'è un'azione un movimento con una cura estetica molto forte anche se la troveremo anche in un secondo momento quindi una cura dell'estetica molto forte ma ragioneremo ancora di più su alcuni elementi non mi voglio distaccare dal concetto della zoomata sempre mentre lui racconta sotto l'inizio c'è parla dell'inizio del suo libro altra tipica fotografia proprio dei primi minuti del film con l'utilizzo di questa quinta che è particolare perché centrata e crea dei riquadri e quindi crea dei sotto insiemi che sono gestiti bene ancora una volta dal punto di vista dei contrasti quindi qui vediamo il signore con sulla destra con la camicia bianca lo sfondo scuro dall'altro lato il signore porta dei tubi e tutto questo è intervallato da questo ritmo è una tipica fotografia di street ovviamente gestita in maniera non banale e con grande creatività e poi l'ultima di queste fotografie della diciamo fotografie di queste clip estratte è quella poi del basso e quindi si ritorna ancora una volta all'azione al movimento alla si crea già una distanza fra quello che è lo sfondo di new york e poi quella che sarà la storia d'amore e quindi gordon willis accompagna questa introduzione in questo modo secondo me spettacolare splendido immersivo guido guido che mi dici allora dato che potenzialmente insomma questa nostra finestra questo nostro incontro è rivolto a chiunque sono queste sono la parte bella della potenzialità del web però è chiaro con un occhio particolare chi ha interesse a propondire un determinato argomento specifico mi posso permettere per una volta diciamo tanto di indilungarmi ma di consentire intanto una promessa una premessa che poi vado a dividere di volta in volta nelle fotografie ma è fondamentale non solo perché chiaramente come ciascun artista ha la sua idea di quell'arte che mette in essere inutile fare l'elenco ma anche insomma ciascun critico ha il suo modo di raccontare il cinema nel corso degli anni il mio si è sempre più discostato e infatti sì formalmente lo sono giornalisti perciò uso questa ispezione formalmente perché sono tante persone che mi lantano di estro per non sono iscritto agli albi però amo più la definizione storico perché ho sempre intrapreso un approccio molto diverso che nel corso degli anni si è andato insomma non voglio dire raffinare ma rafforzare soprattutto in base alle letture successive delle biografie degli interpreti mi piace innanzitutto contestualizzare un film storicamente perché il film un film anche se casomai è ambientato in un periodo diverso anche malatta e un instant movie di fatto no perché la malatta del 79 però diciamo pensate il caso della cortelesi è un film ambientato nel passato ma che dichiaratamente rivolto all'oggi come come insegnamento monica tematica storicamente da un punto di vista tecnico nel 79 non esistevano i droni e quando tu dovevi fare delle riprese aeree dovevi affettare l'elicottero con tutti i costi e le difficoltà tecniche l'abilità che serviva anche i permessi non è che puoi volare nei cieli liberamente ma cosa più importante storicamente nella quella che è la l'evoluzione poetica di un autore allora dobbiamo quantomeno dire che il primo step evolutivo molto importante per sua stessa missione non è quello che non è una mia idea questa storia della carriera di guriale avviene nel 77 quando lui incrocia artisticamente gordon williams ha fatto aveva già successo lui viene dalla televisione e vi permette questa introduzione che poi lo legheremo perciò detto di volta in volta le fotografie però secondo me necessaria per capire in quello che è affatto quindi consentite meno amiche amici perché i suoi film che rimangono molto freschi all'inizio della sua carriera effettivamente mancavano di struttura con io anni e niole nel titolo originale lui dice gran parte di quello che ha imparato tecnicamente nel cinema lo imparo grazie a gordon wins e al suo montatore l'alfa rosa con io anni che tra l'altro chiudo una parentesi poi che è il manifesto di come raccontare una storia d'amore nel 77 ma rimane tutt'oggi modernissimo fu un disastro incredibile perché innanzitutto poi la storia di base di io anni e non vi preoccupate è legato a manatta lui la recupererà anni dopo il misterioso omicidio a manatta con lo stesso sceneggiatore che è anche lo stesso cosceneggiatore di manatta si doveva chiamare anedodia l'incapacità di provare piacere non fu soddisfatto del risultato ma il montatore dice guarda che tu hai nelle mani un gioiello poi diventa any hole perché vi dico questo perché troppo spesso Woody Allen viene accusato di una cosa di fare sempre lo stesso film o dire di un grandissimo regista sceneggiatore battuta eccetera non si sottolinea mai abbastanza di come sia stato comunque lo è ancora come carriera ha fatto il cinquantesimo film regista molto tecnico e raffinato che ha variato spesso il suo stile arriva a girare Manhattan che è il suo primo film in bianco e nero nella sua carriera tornerà al bianco e nero altre volte non tantissimo e quindi già questo è un elemento di rottura è il suo primo film in in anamorfico formato che Woody Allen non ha mai amato tant'è vero che tornerà all'anamorfico solamente nel 2003 e Woody Allen faceva un film all'anno e l'idea di di Manhattan avviene durante le riprese addirittura di Interiors perché Woody Allen dimorava in quel periodo negli Hampton e nelle chiacchierate notturne serali a cena proprio con Gordon Williams parlando insomma dei fatti loro massimi sistemi ma soprattutto del cinema che amavano in particolare del cinema anche bellico avventuroso in questi film in bianco e nero in anamorfico vedevano gli aneoprani carri armati gli venne l'idea ma perché non si fa un film intimista romantico lo stesso utilizzando un formato anamorfico molto largo per prendere più spazio possibile ma perché non lo facciamo a Manhattan a New York anche se New York è una città che si sviluppa in verticale ecco che narrativamente nasce a cena a tavola un film di rottura con la prima parte della catena di Woody Allen nel 77 ovviamente nel marzo del 78 vince non se ne frega un niente l'Oscar come miglior film io e Annie miglior sceneggiatura originale lei vinse anche la migliore attrice Diane Keaton e miglior regia lui era candidato come migliore attore ma non vinse ma suonava quella sera quando si faceva la notte di Oscar come celebre al suo pub però diciamo la storia l'idea di girare in bianco e nero e in anamorfico per la prima volta in bianco e nero e per la prima volta in anamorfico nasce da queste chiacchierate notturne artistiche a cena con il suo direttore della fotografia che è stato il primo elemento di crescita autoriale del cinema di Woody Allen era una premessa necessaria perché questo perché l'incipit che tu hai fatto vedere che oggi è ormai celebre è un incipit è difficilissimo sembra cioè tecnicamente è molto facile se unisce invece è narrativamente di una raffinatezza e di una complessità incredibile innanzitutto perché unisce due tipi di narrazione la narrazione puramente cinematografica con la voce fuori campo che diventa metanarrazione cioè noi sentiamo proprio lo scrittore nel mentre scrive potenzialmente il primo capitolo di questo romanzo lo riscrive quindi anche le riscritture del romanzo come se fosse la riscrittura di una sceneggiatura però sono passano le immagini della città di New York come facevi vedere tu in particolare il quartiere di Manhattan perché New York ha cinque grandi quartieri non solo Manhattan anche se cinematograficamente molto spesso poi si riduce a Manhattan con la musica altro elemento importante Woody Allen non voleva Gershie all'inizio come è noto lui in quel periodo cenava molto spesso ad Ilands e in quel periodo passava nel jukebox di Ilands una canzone I can't get started di Bunny Berrigan che lui voleva mettere con un incipit fu poi il montatore e anche l'idea che aveva comprato un disco di Michael Tinson Thomas con le registrazioni del celebre di Gershie che poi li fece di pensare ma forse ci starebbe bene se voi guardate il film l'inizio la coordinazione delle immagini della musica degli scacchi non è perfettamente coordinata attenzione non è un errore tecnico quello che vedremo alla fine del film è voluto ma questo incipit che è così romantico così bello così elegante in realtà sta unendo tre componenti fondamentali la scrittura cinematografica puramente narrativa metanarrativa la scrittura attraverso l'utilizzo della direzione delle fotografie con il controllo delle luci per la prima volta in bianco e nero e la musica una musica che è stata scritta in periodo precedente Gershie che sembra sposare perfettamente quelle immagini che non sempre è coordinata con ritmo Sergio Leone l'avrebbe coordinata in maniera diversa però è voluto perché questo film parla di pieni e vuoti assolutamente lo vedremo anche dopo come si alterna questo concetto pieno e vuoti ma allora l'utilizzo dei grandangolari e diciamo in particolar modo di palenti anamorfiche del formato che è evidente che non è un 16 noni è molto più ampio quindi questo è un formato 2.41 Guido sì perché dato che tu hai un canale molto tecnico molti lo sapranno però per chi si approccia il cinema entra in crisi prima insomma con l'avvento del sonoro ma poi entra in crisi con l'avvento della televisione piccola parentesi storica tecnica però è legata proprio a voi e si provavano a fare tutta una serie di escamotaggi per cercare di riprendere un po' quegli incassi anche il cinema odoroso pensate un po' e si trovò un compromesso perché una delle soluzioni era buttare via tutto quello che tecnicamente che uno aveva fatto con costi enormi sia per le case di produzione per i cinema e invece si prese un brevetto francese queste lenti che poi li perfezionate in Germania delle lenti anamorfica in modo tale che tu non dovevi cambiare le macchine a presa bastava questa lente una lente per esempio sappiamo che il formato che si chiama Academy Standard era 1.37 con l'introduzione della banda sonora nel 40 diventa 1.33 si riduce quello quadrato che poi non è perfettamente quadrato che succede che con il formato anamorfico con la stessa pellica anamorfico perché poi non è il super 35 ritagliato in 2.35 attenzione in sede di riprese le figure umane o qualunque cosa era come se fosse effetto di una cura dimagrante in modo tale che stringendo le persone potevi prendere più porzione possibile con la lente poi che de-anamorfizzava quello che tu avevi ripreso al cinema ritornava nella sua proporzione normale come se guida adesso fosse così e poi torna nelle sue condizioni ma questo permetteva di riprendere molto più spazio a destra del fotogramma e avere questo formato molto ampio e spettacolare al punto tale che era più importante del nome del regista e del film infatti usciva a CinemaScope Production è la prima casa di produzione che si avvalsa di questo prevetto come è noto è la 20th Century Fox formalmente il primo film uscito al cinema ma non girato in CinemaScope fu la tunica il formato era 2.55 a 1 con poi l'introduzione alla banda sonora stereofonico anche di più si è ridotto a 2.39 a 1 oggi è 2.35 a 1 quindi se noi abbiamo un'altezza di un metro la base deve essere 2.40 e tra le altre cose su questo formato che è su questo formato l'utilizzo dei grandangolari quindi di lenti che hanno un bell'angolo per il racconto di una storia quindi se non stiamo parlando di rappresentare dei paesaggi ma stiamo parlando di parlare poi di persone no si affronta il tema dell'amore nel film quindi l'utilizzo dei grandangolari su questo formato CinemaScope quindi 2.40 quello di Manhattan credo 2.41 crea questa immersività profonda nelle scene che è qualche cosa che vedremo anche nelle prossime immagini. è difficile utilizzare molto difficile molto difficile è ovvio che se uno prende solo il rettangolino qualunque cosa non ha nessuna differenza ma cambia totalmente non solo la percezione ma la concezione della ripresa del fotogramma dei movimenti di macchina tant'è vero che Woody Allen lo diceva perché per lui era una sfida ma la sfida e poi quello che interessa a noi era proprio concepire un film romantico intimista con un formato che è tipico non so pensate di guardare stella di western del film spettacolare di una storia spettacolare che deve soprattutto colpire lo spettatore questo è questo però poi alla fine fu fu vincente perché anche se non vinse nessun oscar Gordon Winston non ha mai vinto l'oscar in tutta la sua carriera poi anche se aveva fatto il pasino e aveva cambiato la storia del cinema il pasino del 72 proseguirei con Tony diciamo affrontiamo il concetto ancora una volta quello del contrasto che può essere per un'analisi tecnica allora che poi dovete sapere che io ho mandato delle fotografie a Guido Guido ha avuto la pazienza di riprendere il suo full hd perché io non l'ho trovato di riprendere il suo full hd e di ritirare fuori quindi di estrapolare i frame che ci servivano per la discussione e questo è poi un qualcosa che ci fa capire posso dirti una cosa se non so se mai Woody Allen ci guarderà sì intanto diciamo è l'ho sempre fatto poi ho speso tutta una vita comprarmi film originale questo film fu importante storicamente perché ricordiamo che del 79 questo è sempre legato a voi quindi insomma la tv ormai è in auge da parecchi anni però la tv era ancora in quattro terzi non è come adesso in alta definizione i film venivano brutalmente tagliati ed è stato il primo film per contratto un contratto fortissimo vincolato di Woody Allen avere l'obbligo di essere trasmesso in tv e di essere editato in videocassette che erano tutte panne scan nel suo formato originale aveva queste bande che non erano bande perché in realtà è film quello azzurro e grigio eccetera e quindi Woody Allen e da lì ci furono una serie di autori che si unirono su questa su questa tendenza perché poi si fregavano niente che in televisione venivano amputati posso usare un termine che può sembrare brutale ma amputati cioè se voi prendete questa immagine e fate 1,33 vedete quanto spazio a destra e sinistra lo spettatore non metteva quindi Woody Allen apprezzerà non solo che ho rispettato una definizione più vicina possibile la pellicola ma che vi stiamo mostrando il fotogramma così come i fotogrammi e le inquadrature così come sono state concepite da lui e il direttore della fotografia prima di tutto bisogna rispettare l'opera di questi artisti prima di più poi l'analizziamo no ma poi sai quando tu sai di partenza che è quel formato che è 2,40 ovviamente il direttore della fotografia compone l'immagine per 2,40 quindi lo vediamo anche dopo quindi da sceglie dei punti focali dei punti nei quali devi attrarre l'attenzione utilizzando la composizione quando tu ritagli poi l'immagine in qualche modo della teversa quando cambi il formato quindi ti sei perso hai perso un pezzo di lavoro fondamentale che è proprio quello della del direttore della fotografia perché gli fai perdere la composizione che ha scelto posso farvi capire quanto importante la frase che vi ha detto francesco e mi permetto di aggiungere visto insomma la mia intrusione mi sento un intruso nel vostro canale questo è da un punto di vista tecnico artistico e formale che insomma ragazzi immaginate quante ore si spendono a volte per sistemare le luci e tu butti in vacca il lavoro di una giornata ma dal punto di vista registrico ovviamente i film vogliono raccontare delle storie vi racconto l'ha detto io per non sono riuscito a vedere tutti i film al cinema della mia vita anche per questione d'età a volte si sono andati a rivedermi finché erano precedente alla mia data di nascita avevo sempre visto il laureato in tv e ho comprato la videocassetta e come è noto il laureato è un altro di questi film in 2,40 però la videocassetta originale era 1,33 anche trasmessa in tv quando compro finalmente il dvd lo vedo in in 2,40 e 2,35 il finale del laureato in tv era un campo e controcampo un quadrare volto di Dustin Hoffman e della sua non ne ho sposa perché la riteva là quella regia a questo punto non regia del regista di mike nichols ma di chi ha deciso di tagliare il film e poi di scegliere in quale momento inquadrare l'una e l'altra quindi di volta in volta di chi lo trasmetteva in televisione della videocassetta quindi una brutalità incredibile faceva percepire allo spettatore io per primo da giovanissimo come se ci fosse una compi una una complicità tra loro due se voi vedete il film originale adesso con il formato giusto e quindi non c'è il campo e contro vanno l'inquadro uno prima dell'altro noterete che non c'è affatto complicità ma c'è quasi come dire ma cosa abbiamo combinato cioè prima questo sorrisetto poi si stempra e poi sfiora nella loro mente si affiora nella loro mente il dubbio quindi è doppiamente una brutalità sia da un punto di vista puramente tecnico e formale decidere cosa far vedere cosa non far vedere rovinando anche quelle che sono le vocali o pensate quando uno decide di mettere a fuoco qualcosa e sullo sfondo no e tu stai rovinando ma anche narrativo perché puoi cambiare totalmente il senso della storia assolutamente ma guarda la correlazione ma noi l'esamineremo perché poi faremo degli esercizi diversi è perché a questo punto dobbiamo entrare nella si dirimbe dalle parti nostre la scazzetta allora noi faremo questa relazione tra la composizione che è l'arte di alcuni fotografi che è l'arte di attirare l'attenzione su parte della scena che è troppo formalizzata su schemi geometrici e io su questa lettura della composizione non sono d'accordo e quindi correlazione fra composizione e narrazione perché quello che tu stai dicendo è proprio questo come l'inquadratura differente e la composizione all'interno dell'immagine differente è un modo di influenza quello che è percepito della storia però io tornerei sulle immagini perché poi se no sembra ora 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 andiamo però io penso guido che noi avremo parecchio da fare e ci saranno parecchi amici che saranno felici di questa cosa ritorno sull'immagine allora questa dove è il suo esercizio in bianco e nero e lui compone una scena che ha un ritmo fatto di luci ma queste fondamentalmente hanno il valore equivalente di una texture e poi tutto quanto vedi a proposito della composizione come tutto va dove esiste il contrasto e il contrasto esiste qui in fondo è una scena che dal punto di vista della storia non rileva è una scena di contorno questa che però mi piaceva mettere il risalto come lui utilizza ancora una volta il punto di bianco il punto di minero il punto di massimo contrasto per attirare l'attenzione su un punto e preciso dell'immagine questo è proprio l'esercizio secondo me più interessante e poi andiamo avanti no qui vorrei dire su quelle immagini che sono perché voglio dare anche un senso alla mia presenza dovresti sapere che io insomma ho solo indicato questi cinque film perché francesco mi ha detto incominciamo a pensare se noi non iniziamo mai pensando mi ripeto qualcosa che fosse interessante per voi per il lavoro che fate ma francesco ha scelto liberamente dei momenti del film perché a me piace che le persone anche quando io invito qualcuno a fare delle conversazioni non siano vincolate castrate costrette detto poi io seguo a rock e ovviamente ne analizza dal suo punto di vista che è assolutamente corretto non sa però quanto è realmente bello e raffinato questo inizio che sembra di una semplicità normalissima no ricorda se vogliamo una poltrona per due no tutto anche se non c'è la narrazione metacenotografica la voce fuoricampo tutte le immagini di feradelfia dal mercato anche la statua di rock si vede in una poltrona per due però attenzione Manhattan non è sai qua si usa sempre questa espressione adesso lo sentite spesso non sono ai film di quentin tarantino una cartolina d'amore a los angeles c'era una volta una cartolina d'amore a new york io mi viene l'orticale la new york di Manhattan che fotograficamente narrativamente è quella del 79 78 quando è stato girato il film quindi c'è una ricostruzione scenografica per quella che ti interessa della storia ma ovviamente non stai né retroitratando e né trasformando una città del futuro però non è la new york reale tant'è vero che i new yorkesi anche qualche critico ebbero da ridire ma è una new york neanche idealizzata come vorrei che fosse la mia città ideale quindi la frase la cartolina d'amore una lettera d'amore non significa proprio nulla sono quelle frasi che la gente ama e buttiamo così come nel calcio le frasi fatte in realtà è la new york che io bambino e io adulto ho visto nei film e come l'ho vista ovviamente l'ho vista nei film in bianco e nero ecco perché decido di rappresentarle in bianco e nero perché quella è la mia new york emozionale e questo incipit è da un lato ricreare e trasmettere quest'idea poetica di new york che poi diventerà fotograficamente la cifra stilistica del successivo film in bianco e nero di gordon willsley woody allen ma mantenendo anche un approccio non proprio puramente documentaristico perché comunque idealizzata non è così freddo perché tanto è vero che francesco notava delle finezze puramente artistiche anche se gordon willsley odiava dice noi siamo dei lavoratori non siamo degli artisti diventa arte se facciamo molto bene il nostro lavoro però ho detto c'è questo approccio di nuovo di unire diverse anime l'anima dei ricordi non della nostalgia ma dell'amore io quella è la new york chiamata e non è la new york chiamata della vita reale che mi ha rappresentato il cinema ok e che io voglio ritrasmettere ma la sto riprendendo oggi oggi ci sono i playground oggi c'è quel ristorante che richiama opera oggi i bambini che escono dalla scuola sono vestiti così nel 39 nel 35 non erano vestiti così oggi può capitare di fotografare anche per sbaglio una coppia che si bacia non sappiamo nulla di questa coppia ma ci restituisce quest'idea romantica di una città che non dorme mai quindi è molto importante eppure se Francesco non lo sapeva queste sequenze che sono all'inizio del film sono brevissime a volte sono veramente pochi secondi in mente già ti trasmettono l'anima narrativa e artistica di questo film no ma le prime sequenze sono un accompagnamento anche dal punto di vista del ritmo non per come è stato tagliato ma dal punto di vista del ritmo di quello che è poi questa rielaborazione continua del primo capitolo del romanzo che si sente in sottofondo ed è fantastico tutto questo punto di vista mi piaceva l'idea della zoomata quel frame io l'ho scelto distaccandomi un po' lo riprendiamo distaccandomi un po' dal concetto della storia ma proprio per la tecnica di costruzione del bianco e nero per spiegare punto di bianco punto di nero si genera il contrasto ma l'occhio va dove il contrasto è più forte che è quel punto focale lì è una parte tecnica questa che si unisce la narrazione se torni alla 1 dall'universale dal globale c'è la città ci avviciniamo all'intimo esatto e l'intimo sarà la storia di queste una coppia e mezzo due coppie e mezzo però c'è sempre una ragione perché quello che succede su un grande schermo ricordate sempre che non è che casuale quindi è un studio attento ecco è molto interessante questa prima parte iniziale poi andiamo su quello che è queste sono le immagini che in qualche maniera ho scelto qui c'è poca tecnica nel senso che qui la tecnica è nella scelta dell'angolo ecco il valore poi dell'anamorfico il valore dell'utilizzo di grandi angolari per il racconto delle storie dove c'è un'inclusione di tutta la scena e noi siamo seduti al tavolo è una scena normale però la composizione in questo caso è realizzata con l'angolo della lente che è un angolo aperto e quindi noi siamo il quinto osservatore seduto al tavolo proprio perché siamo prossimi e c'era prima di passarti la parola ci sono proprio per il dialogo e quindi non è una sequenza rispetto al film però dialoghi che sono gestiti ovviamente questo è uno questo è l'altro quindi lui in prima persona che è presente e qui abbiamo un pieno che è lui e poi abbiamo un vuoto che è una cosa che noteremo dal punto di vista e la composizione la fa spessissimo con l'utilizzo della luce che è morbido che è equilibrato non ha punti forti quindi anche se c'è un alto contrasto non è esasperato e poi ancora tipico è l'utilizzo del dialogo della nuca della persona che ascolta come quinta e quindi ancora una volta diciamo non so neanche se è corretto parlare di vuoto la nuca della persona è pieno il volto della persona della di chi parla ma sicuramente esiste questo ritmo compositivo che ci mette poi nella condizione di ascoltare quasi con quattro orecchie quello che sta dicendo le due della quinta quindi la persona in primo piano è quella del dialogo perché è uno schema che lui ripete più volte durante il film è uno schema ripetuto ci fa capire anche quello che è il concetto nella costruzione di una storia il concetto della coerenza quindi di utilizzare un qualche cosa che non deve spostare l'idea che ci siamo fatti di quello che verrà cioè la storia che deve essere di rottura non è l'immagine che deve andare a rompere un equilibrio vi assicuro che insomma forse anche colpevolmente non dovremmo dire questa cosa qua che non abbiamo fatto prove siamo solo sentiti umanamente telefonicamente ma non sapete che cosa è andato a aprire Francesco Gordon Wins è stato un direttore della fotografia a prescindere dal risultato tecnico molto importante per la storia del cinema statunitense perché è stato quello che ha fatto fare un balzo in avanti non ripeto non solo da un punto di vista tecnico per le sue soluzioni stilistiche anche particolarmente forzate innovative il suo soprannome era il signore delle tenegre pensate per l'utilizzo dei neri ma perché quello che si è battuto anche inconsapevolmente su restituire non solo la giusta dignità ma la giusta importanza da un punto di vista temporale anche delle risorse messe in campo economiche e tecnologiche per quanto riguarda la squadra della direzione della fotografia perché sì è stato importante pensate tutto il periodo degli anni 40 il noir americano tra l'altro si girava in studio però dedicargli il giusto tempo le giuste risorse il giusto tempo era una cosa importante ed era un regista molto tecnico molto pignolo e molto lento spesso noi pensiamo Buriani ha lavorato per l'inizio della sua carriera con pochi direttori della fotografia principalmente due parte all'inizio della sua carriera conosce Gordon Wills con Ioenni e lavorerà con lui fino alla rosa purpura del cario poi passerà a un direttore della fotografia europeo sappiamo che i suoi maestri di riferimento sono Bergman Fellini è stato Carlo Di Palma che aveva uno stile totalmente diverso più morbido e anche chiaramente non mai sciatto però meno diciamo meno intransigente su una cosa là e Woody Allen raccontò che lo racconta credo anche in una sua biografia che Willy si era talmente fissato che se c'era un'inquadratura di Woody Allen che parlava al telefono in una strada e l'altra protagonista in un'altra strada in un altro posto lui era attento che uno fosse sulla destra e uno fosse sulla sinistra attenzione non perché devi rispettare la regola dei 180 gradi perché comunque non sono nello stesso ambiente sono addirittura in due luoghi diversi dello spazio ma perché era molto più elegante più comodo e più coordinato in sede di montaggio quindi già ragionava in chiave di montaggio quello che hai detto tu e non lo sapevi questo è voluto perché fa parte non solo dello stile ma della concezione filosofica artistica che ha un direttore della fotografia e che chiaramente sua personale non esiste una giusta e una sbagliata però di nuovo non è casuale non lo sapevi ma è così cioè figlia di quella che era la sua idea di cinema allora io quando mi capita di leggere un'immagine c'è tra sei tra i vari criteri quello che io preferisco tra tutti quanti è quello della cura del particolare cioè quando il fotografo ha curato il particolare con attenzione non lo fai sempre quando fotografi lo fai molto quando selezioni ovviamente quando tu hai la possibilità come un direttore della fotografia di scegliere quello che vuoi mettere in quel frame ovviamente c'è lo devi fare con maggiore attenzione quando sei in strada ed è casuale lo puoi gestire di meno lo gestisci poi in altro modo però io la cosa che noto tu parli sempre e utilizzi questo termine sofisticato no? cioè hai usato prima il termine per definirlo dice delle scelte che non sono casuali sono sofisticate è quello che traspare in ogni scelta noi abbiamo selezionato 26 perché altrimenti qua già arriveremo secondo me lunghi ma ha grande attenzione nelle scelte e lo vediamo io ti direi di fare un altro passettino in avanti sulla scena che hai fatto vedere è ovvio tu le sottolineavi e quindi non ci torno sull'importanza dell'anamorfico della della lente scelta tra l'altro anche quello era Pignolo Giuliani si racconta l'ha raccontato anche quando ha preso il leone d'oro a Venezia che Hitchcock una volta la portò in camera e gli fece vedere sul letto tutte le lenti possibili immaginabili e degli obiettivi cinematografiche la portò in camera per un fatto tecnico attenzione oggi bisogna essere precisi per dire guarda devi imparare anche come ti riprengono perché con questo il tuo naso sembrerà così con questo così non bisogna valutare il fatto che con chiaramente una scusa Woody Allen nella scrittura fa allontanare Mary Hemingway la straordinaria attrice nonché nipote del maestro Hemingway e quindi poi di nuovo dall'universale che è diventato un po' più particolare la storia di queste quattro persone andiamo ancora più nel particolare e vediamo Woody Allen che si accende la sigaretta solo perché fa molto figo perché fa figo perché richiama di nuovo un'idea di cinema come Borga eccetera e lui imita quello che poi sarà lui l'ha fatto in un film dove li chiamava Bogart Fantasma in Provece Ancora Sam che era una sua opera teatrale e invece adesso lo possiamo inquadrare ma come faceva notare Francesco attenzione non c'è una regola nel cinema non c'è una regola perfetta devi far così non è un'inquadratura simmetrica e centrale ma è simmetrica Woody Allen è leggermente spostato sulla destra e c'è questa alternanza tra pieni e vuoti tra scuri e pieni e c'è una parte molto consistente tra l'altro per un formato anamorfico potrebbe essere un errore ti hai lasciato tanto spazio vuoto a sinistra ma è voluto infatti troveremo molte queste soluzioni dove non c'è questa simmetria assolutamente allora andiamo avanti ancora per un pezzetto allora qui ovviamente il problema è una scena confusa è una scena direi anche un po' caotica mossa ovviamente l'occhio va su di lui perché va su di lui camicia a quadrettoni che rompe rispetto a tutti il resto gli equilibri cioè lui utilizza ancora una volta la texture per governare l'equilibrio generale dell'immagine e attrarre l'attenzione sul protagonista cioè il protagonista si comprende subito chi è uno è illuminato un po' meglio rispetto agli altri e si vede la luce sul suo volto quindi la fonte luminosa è in alto a destra ma si vede che non va anche sulla persona al centro che invece è solamente in chiaro scuro quindi l'illumina un po' con la luce diretta e un po' con la camicia che è un elemento che distacca rispetto a tutto il resto che è piano prima di lasciarti la palla su questo su questo aspetto ti voglio far vedere anche la successiva perché bisogna memorizzare la camicia in quanto nella scena successiva e per me c'è una una consecuzio la proiezione di Woody Allen è sul figlio quindi la proietta sul figlio il figlio ha la maglietta a quadretti lui ha una t-shirt monocromatica diciamo grigio scuro in questo caso non riconosciamo il colore però è molto bello questo passaggio dove ci sono due elementi il cambio della maglietta che è sul figlio che è la sua proiezione e l'altro che poché è un momento di gioia in tante preoccupazioni amorose di lavoro e così via è la prima scena in I.K. quindi da quello che è un amante del nero profondo una scena che è il momento di gioia ma si vede anche nell'espressione di Woody Allen che è di vita con il figlio diventa una scena in I.K. quindi in chiave alta luminosa che è il modo migliore per rappresentare un momento di gioia mi permetto di dire anche di non solo proiezione che è vera nulla nel film è casuale lui il bambino potrebbe indossare qualunque tipo di indumento ma anche di preoccupazione se uno rivede il film ha una preoccupazione di come sta crescendo come viene educato addirittura dice perché questo bambino disegna così bene non ha preso da me non ha preso dalla mamma è la compagna di Mary Streep la seconda moglie di Woody Allen dice ha preso da me e lui dice ma a meno che non è successo qualcosa nel Padre Eterno leghiamo le due immagini ritorna sulla prima nello studio televisivo dove tu ben ricordi che confusa non significa confusionaria amiche no no Francesco non si è sbagliato perché ovviamente sono i ritmi concitati della tv tant'è vero che in quella sequenza due persone entreranno nella sala regia nonostante sia già abbastanza affollata perché ce ne sono ci sono tre tecnici più l'autore dell'opera televisiva che non è tra l'altro più soddisfatto della sua stessa opera non interromperanno verranno quasi ignorati con dei falloni però uno degli errori che spesso si legge oggi nelle recensioni o si ascolta un film classico o Eastwood era un film classico un montaggio classico un montaggio classico non è che tutto ciò che è tra virgolette vecchio che per me non è vecchio però chiaramente per un ragazzino oppure un film del 79 ha molti anni sulle spalle è il cinema classico perché il montaggio classico aveva tre filosofie di fondo che erano alla base delle scelte motivazione chiarezza e drammatizzazione è uno degli aspetti per esempio che doveva rendere e ci doveva essere un montaggio inconsapevole cioè lo spettatore doveva essere guidato inconsapevolmente su quello che erano delle scelte particolari una delle ragioni per cui Orson Welles era mal visto che sceglie una profondità di campo assoluta anche se aveva un formato in quattro terzi ci sono scene di film di Woody Allen scusa di Orson Welles che nonostante ha tre piani narrativi pure il terzo piano in fondo è messo a fuoco a questo punto lo spettatore non ha una regia interna che decide per lui che cosa sia più importante o meno all'interno di quella scena di quel fotogramma lo sceglierà lui e questo non crea uno spettatore inconsapevole perché deve essere nascostamente guidato ecco una delle forme che guidava lo spettatore era mettere perfettamente a fuoco ovviamente il protagonista quello che tu ritenevi importante e prioritario per la storia e per gli spettatori e lasciava con Tecne Flua fuori fuoco lo sfondo ti manderò poi non so se le puoi aggiungere dopo degli esempi su questa cosa qua in questo caso anche se il film del 79 non ha un montaggio classico perché tutto è a fuoco semmai giochi con contrasti di luce e ombre di neri e bianchi ma Woody Allen che a questo punto è su un terzo livello narrativo cioè il primo il tecnico il secondo è a fuoco come a fuoco il banco di regia quello che cambia è la composizione dell'olio tra l'altro anche qui il formato anamorfico e largo permette di far vedere che questo banco di regia vede più di un tecnico di un professore contemporaneamente addirittura entrano separatamente due persone quindi l'elemento cromatico è dato dal capo di abbigliamento di Woody Allen e della sua posizione all'interno del fotogramma non dalla messa a fuoco precisa solo su un elemento narrativo della storia allora quello che tu hai detto non ho idea quanto è vero è come sia banale con le tecniche attuali con l'attrezzatura che abbiamo attualmente creare un contrasto tra il soggetto e la scena utilizzando lo sfocato perché in effetti è una tecnica che non è una tecnica è un utilizzo della tecnologia una soluzione facile lo sfocato lo sfocato te lo fa la lente non sei tu fotografo che lo fai te lo fa la lente in determinate condizioni non entriamo dove è molto più complesso invece individuare ed è una delle cose che quando sono in strada con le persone che facciamo workshop e così via io insisto moltissimo su questo aspetto di creare il fuoco dell'attenzione il punto di interesse con il contrasto questo vuol dire cioè non con lo sfocato che è la soluzione ma con il contrasto in questo caso tu hai un ritmo che è dato dalla texture ancora di più e poi da un'illuminazione artificiale che ti dà una forza maggiore su quel soggetto io voglio voglio andare un po' che si parla ma secondo me in molte casi tu puoi origini un po' napoletano tu sei napoletano mamma e papà si lo so esatto allora si parla schiovere quindi quando parlo un'altra lingua tu la comprendi si parla schiovere di storytelling in fotografia diciamo la lingua napoletana che è una lingua comprendo bene non la parlo perché tra l'altro il napoletano che è una lingua meravigliosa in particolare poi nella canzone ho sempre pensato che se provi a parlare e imitarlo e non ce l'hai suona proprio brutta non perché diventa brutta quindi per una questione di nuovo di pudore di educazione preferisco non addentrarmi in qualcosa che rovinerei però insomma mamma e papà lo sono tra l'altro ogni tanto mi accorgo piccola parentesi dalle mie registrazioni pessime che della R che ogni tanto muore perché mamma non solo ma alla R quindi ho dovuto fare un grande lavoro per cercare di non indebolirla ma qui però insomma puoi dire tutti i termini napoletani che vuoi non ci sono problemi comunque mi fa sentire a casa però ho detto non mi crea nessun disagio tutt'altro allora nella sequenza successiva che è questa e io le voglio sparare proprio in sequenza parla di storytelling fai tutto perché di nuovo puoi dire delle cose sul film quindi sentiti libero spara tutto quello che vuoi sparare e io mi taccio però ti anticipo che anche qui tu non lo sapevi ti sia andato non a complicare la vita ma a individuare qualcosa di molto importante e particolare allora poi noi ovviamente stiamo parlando di cose guido di tecnica e di un'analisi che vista a due facce di un qualche cosa che poi noi mettiamo al centro l'oggetto film e quindi stiamo facendo una lettura fatta in questa maniera che credo sia interessante molto interessante poi ovviamente se la difficoltà reale qual è è che il fotografo è nella realtà poi un operatore quindi non è tanto nel condividere o non condividere quello che noi stiamo dicendo e guardarlo in un modo critico ma è nel fatto che tu da diffuso di calcio devi diventare allenatore perché tu devi andare a fare e poi per un momento devi diventare anche giocatore perché devi essere poi tu a costruire le scene no? è un po' come se tu domani mattina dici ok ti chiamano devi fare regista una cosa è commentarlo dall'esterno un'altra cosa è entrare all'interno sono due professionalità differenti siamo d'accordo però quando poi tu fai una lettura delle immagini del genere chi segue questo canale per lo più è un amante della fotografia ed è un fotografo quindi è un soggetto che cerca ispirazione devono andarlo a fare poi queste cose e qui questi sono schemi che dovrebbero vedere qui abbiamo la costruzione di una storia fatta con quattro frame che è un dialogo è sufficiente quattro fotografie per un dialogo che fa capire che sta scattando qualche cosa che non sappiamo se è amore ma potrebbe essere qualche cosa di simile sicuramente attrazione primo terra e le due figure lontane sotto le stelle è molto bello in questa costruzione come sono stati isolati e ancora una volta qui abbiamo un utilizzo della composizione particolare io direi quasi che loro sono nel vuoto non solo nella parte piena nella parte piena c'è la terra loro sono nel vuoto emergono dal vuoto e io credo che sia molto interessante questa prima immagine seconda immagine è questa qui non si vede perché nel movimento c'è però tutti e due loro escono fuori da due storie hanno due storie che stanno lasciando e c'è questa questa secondo me simbologia delle due persone sullo sfondo che sono i due reciproci compagni la visualizzazione dei due compagni che vanno via che si allontano dalla scena c'è lei che parla e lui che è in ombra e questo fatto è interessante lui è mentre lei è ombra su luce alle spalle c'è saturno ombra ovviamente non ha riproduzione ombra su luce lui è ombra su ombra ombra sull'anello di saturno scuro nell'immagine successiva il dialogo cambia è lui che parla è lei che ascolta e quindi lo inverte cioè fa in maniera tale che non solo cambia l'inquadratura i due signori che stanno dietro vanno via e lui si avvicina con la camera e quindi diventa ancora una volta più intimo più immersivo in quello che sta succedendo e poi c'è l'ultimo quando poi che lui inizia a dire si è bellissima quindi si capisce che ha un'intenzione differente rispetto a quella di vedere saturno anzi dice chiaramente non mi interessa saturno non rientra nelle mie discussioni ordinarie quindi non mi parlare dei satelliti di saturno delle lune di saturno va avanti e poi c'è questa che è una costruzione direi anche complessa si vede poco ma è una costruzione complessa dei due profili con la con la luce è un disegno utilizzando la luce sui loro volti dei due profili dove sostanzialmente sparisce tutto cioè tutto diventa vuoto e l'unico elemento è quello disegnato alla luce ed è probabilmente il momento in cui loro sono nella realtà più intimi e quindi loro sono ancora una volta nel vuoto ma diventano la parte piena una cosa brevissima poi ti chiedo un'altra e ritorno su queste immagini la cosa brevissima è che se io pronunciassi una delle battute celebre del cinema potete scegliere voi quale sarebbe un disastro perché sono pessimo non ho una bella voce non sono un attore pronunciata insomma da Piz Brosman che secondo me ha una delle voci maschili ovviamente io sono maschio mi riferiscono più belle del panorama cinematografico insomma è tutto un altro effetto Uriana in questo film azzarda frasi che farebbero impallidire i creatori delle frasi dei baci di Perugina che non solo suonano bene perché ci sono autori come Diane Keaton che è eccezionale attrici come Diane Keaton ma perché è un film che è formalmente elegantissimo e questo non voglio dire che stempra esalta addirittura il romanticismo di battute tu sei la risposta di Giobbi a Dio che ha detto ok faccio cose sbagliate ma faccio anche queste cose meravigliose per citare la scena che tu hai fatto vedere questa è l'unica cosa che volevo dire ti chiedo come cortesia perché ovviamente abbiamo non un approccio uno giusto uno sbagliato il mio è più importante del tuo ma se no non avrebbe senso questa chiacchierata complementare ripeto non diverso di legare queste immagini che tu hai fatto vedere con G2 e G3 G2 esatto sì e io G2 e G3 le ho messe dopo te la faccio vedere allora te la faccio vedere è tutta ripronta per le amiche che ci seguono e poi capirete perché tra l'altro è anche questa spontanea memorizzatela memorizzatela ok e poi ti spiego perché io te le devo legare quello che hai fatto vedere esatto allora vedete uno memorizzatela G2 no G2 questo è G1 è questa qua G2 sì G2 è questa G3 è questa sono molto importanti la G3 narrativamente all'interno della fizione cinematografica avviene prima lui è con la fidanzata ufficiale non nascosta interpretata dalla delicatissima incantevole Mary Hemingway che aveva ovviamente 17 anni all'epoca del film quindi non c'è nessun trucco particolare tra l'altro un visto talmente bello che dovevi solo fotografarlo egli è il primo incontro con il suo amico e la sua amante che lui ancora non sa che aveva un amante Mary interpretata da Ian Keaton che sono fuori campo per la prima parte di questo dialogo noi non li vediamo di nuovo c'è una simmetria narrativa perché non sono perfettamente centrati sul fotogramma avviene in un museo questo è un film dichiaratamente intellettuale o intellettualoide che non prende non è una satira e non è una una commedia e non è neanche una critica ovviamente rappresenta uno spaccato molto particolare della vita new yorkese e di una particolare fascia di reddito new yorkese molto neurotica molto snobbistica intellettualoide ma non intellettuale perché poi alla fine tu questi libri non li scrivi mai l'altra decide poi di accontentarsi di scrivere le novelizzazioni dei film che è una delle cose più banali e semplici e avviene in un museo con un vuoto totale da un punto di vista narrativo prima ancora che fotografico perché noi non sappiamo chi c'è dall'altra parte del muro poi scopriremo che ci sono due protagonisti importantissimi G2 ci trovi di tante cose ma farei una lezione noiosissima che Francesco ha scelto per ragioni bellissime fotografiche è un'immagine difficilissima innanzitutto noi dobbiamo considerare quelle che sono delle espressioni tipiche del linguaggio che sono a volte totalmente comuni o saproponibili a volte un po' diverse nella lingua Anglosassi si dice cadere in amore falling in love e non è un'espressione che noi diciamo cadere innamorati si dice la tempesta eccetera loro è una giornata bella di sole e invece questa tempesta li coglie di sorpresa infatti non è soprabbito né accappatoio né impermeabile né ombrelli si coprono e tra l'altro c'è una curvatura della strada perché l'amore ha le sue curve le sue spigolosità loro sono costretti a entrare nel planetario perché è stata la tempesta che è metafora di una tempesta d'amore che li sta per attraversare e coinvolgere nel planetario la prima immagine torna aspetta che vedo che è la F1 aspetta che io non mi muovo in maniera agile ah ok no non ci preoccupiamo nel senso che stiamo è qua devo fare il discorso permettimi da critico no 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 ci siamo ci siamo la F1 è questa che tu l'hai vista bellissima io non aggiungo nulla se no sarei sembra troppo lunghi confermo l'analisi raffinata e attenta fotografica che è fatto vi permetto però di legarla alla narrazione perché poi questa è la ragione dei nostri incontri stimolarvi al fatto che dovete raccontare delle storie e non fotografare una bella un bel tramonto una bella fotografia ecco lei rappresenta il lato oscuro della luna caro Francesco rappresenta la dark lady ovviamente noi siamo portati a immaginare per il cinema noir poi il poliziesco degli anni 90 cioè la fan fatale in un certo modo che di solito poi ammazza o porta all'annientamento il maschio lei non lo ammazza da un punto di vista fisico ma lo porta all'annientamento creativo tant'è vero che lui dovrebbe essere concentrato visto che pure si è licenziato a scrivere questo romanzo ma toglie tutte le sue energie vitali perché finisce in questa oggi si direbbe relazione tossica la cosa interessante ecco perché ti ho detto G3 perché inizialmente lei rappresenta tutto quello che lui dice di detestare un certo intellettualismo citazionista i nomi malpronunciati e anche l'idea totalmente contraria la sua filosofia di vita amorosa una relazione hexagonurgale clandestina quando lui invece dice ci dovremmo accoppiare a vita con la stessa persona dobbiamo collegare nei film tutte le cose e invece lei è il lato oscuro dell'Arcside of the Moon che lo attira a sé nonostante perché a volte gli opposti si attraggono questo verrà poi è interessante è vero che è stato parzialmente ricostruito il planetario meraviglioso di New York che non è solo fotograficamente una scena di una bellezza di un'eleganza e di un romanticismo che solo Woody Allen in 79 si può permettere ma di nuovo è metanarrativa perché per l'idea puramente rinascimentale Saturno era legata all'idea della manconia degli artisti e del romanticismo non può essere casuale che questo bacio e questa attrazione avvenga prima per l'attrazione del dark side of the moon poi per l'attrazione sotto gli anelli di Saturno e poi totalmente a buio quando praticamente le loro coscienze sono più importanti della loro immagine e proprio perché abbiamo le loro coscienze messe a nudo nel buio cadono quei freni inibitori e è capace di dichiarargli il suo amore quello che Gordon Williams ha fotografato corrisponde esattamente a una narrazione amorosa del film è molto sofisticato lo so ecco perché un segno di linguaggio cinematografico perché su una scena volendo ci puoi stare anche un'ora però è anche totalmente perfetto si sposa vedete montaggio recitazione fotografia regia narrazione si devono sposare in maniera organica e non essere una che è solo a carica o è più importante dell'altra è molto sbagliato lo diceva pure Gordon Williams una bellissima fotografia con un film scritto male nella storia resterà un film brutto mai salvato da una bella fotografia come un film scritto benissimo comunque verrà rovinato da una brutta fotografia imparatevi questa cosa che è molto importante gli elementi nell'arte devono essere complementari e non in rivalità Guido io credo che l'80% dei fotografi che poi seguono il canale mi hanno sentito l'80% si occupano diciamo come genere hanno scelto la fotografia di strada e anche se non hanno scelto la fotografia di strada diciamo tendenzialmente una fotografia narrativa oramai sono stufi per quante volte l'ho detto di sentirmi dire che esiste un equilibrio tra estetica e contenuto è ovvio che stai parlando di una fotografia e non di un film però se tu non hai un contenuto ci deve essere un'estetica ma quell'estetica deve essere veramente notevole cioè non può essere un'estetica ordinaria deve essere veramente notevole come se hai un contenuto violento un contenuto violento da un punto di vista potente quindi forte l'estetica è trascurabile cioè può accompagnare ma un'estetica troppo forte su un'immagine troppo forte perché parliamo di immagini su un contenuto molto forte dico l'estetica corre il rischio di mangiare il contenuto e non di accompagnarlo invece in un racconto apparenti saremmo tutti artisti e tutti voodial esatto concordo la tecnologia questa nuova tecnologia tra l'altro ha costi decisamente inferiori rispetto al passato io sono figlio di un fotografo per quanto ingegnere che risparmiando spendeva bei soldini grandi cacchiature di mia madre per le canon che arrivavano dal Giappone eccetera oggi con metà della metà della metà di questa volta ti compio una bella macchina che pesa un quarto di questo rispetto a quello con tutte le lenti ma la tecnologia quindi ha permesso e quello è un aspetto buono potenzialmente almeno permette a più persone di avvicinarsi a determinati strumenti ma questo non fa sì che automaticamente diventi un artista assolutamente ma sai cosa c'è c'è poi una mancanza ma questo poi lo affronteremo in altre live c'è una mancanza io quando lo dico sempre come mai hai iniziato a suonare il pianoforte cioè tu hai il pianoforte come mai hai iniziato a suonare il pianoforte no ma io non suono il pianoforte ma perché non lo suoni è perché non lo so suonare e allora perché pensi di sapere utilizzare la macchina fotografica cioè semplicemente perché l'hai comprata al banco del supermercato è richiesto uno studio un approfondimento e tra le altre cose quando cominci ad esprimerti questo lo dico io infatti non parlo mai dei libri di fotografia che ho letto perché secondo me è un errore fare riferimento al libro che hai letto perché tu sei un creatore devi avere il tuo pensiero critico devi creare tu devi scrivere tu un libro con il tuo pensiero quindi devi realizzare una fotografia che non è stata realizzata ad altri teoricamente devi fare una ricerca della tua identità visiva ma questo è un discorso che poi affronteremo per fare la copertia è l'unione dello studio dell'esperienza perché uno deve anche vivere e poi ovviamente devi avere qualcosa non solo raccontare ma il talento per sintetizzare in maniera interessante cioè non proprio artista ma almeno interessante qualcosa perché un cantante uno scrittore trasmette sempre quel senso di individualità e non di universalità cioè che le persone hanno l'impressione che stia parlando di se stessa non dice sta parlando della mia storia perché hanno la capacità artistica di sintetizzare quello che una persona comune vive nella vita normale entro a un travaglio amoroso in quella canzone in quel libro e se no ripeto saremmo tutti artisti comunque è vero questo comunque poi lo affronteremo questo ragionamento perché ora ti sei ingarbugliato in una questione che secondo me è anche più grande di te cioè nel senso del punto di vista dei video che dobbiamo realizzare comunque andiamo avanti perché poi ovviamente io alla fine lo dirò che voglio sapere perché poi mi sta venendo in mente una cosa quando lo abbiamo montato ma io sono rapido poi ho pensato lanceremo una premiere che è una cosa che non ho mai fatto che è a metà tra una live e una registrazione così vediamo nei commenti cosa dicono i nostri amici allora qua passiamo ad un altro schema perché siamo usciti dalle fotografie che raccontano delle storie in successione quindi dal concetto di serie fotografiche no? quelle che potremmo dire anche carosello teoricamente che entriamo in schemi che lui ha utilizzato questa è fantastica lui il figlio sempre il figlio con la stessa maglietta scacchi che da notare la composizione barchetta grande con il padre grande barchetta piccola con il figlio piccolo l'equilibrio da dove sta il padre che è leggermente nascosto ma il protagonista vero è il figlio in questa scena che è libero da qualsiasi quindi sempre attenzione nel particolare ci ha detto al ragazzino guarda ti devi mettere tre centimetri e mezzo più a destra il ragazzino in qualche maniera si sposta e si posiziona in maniera giusta loro due che vivono nel mondo dei sogni che è quello che hanno avanti dei giocattoli dietro la vita che scorre che è indifferenti a loro e loro sono indifferenti alla vita che scorre di una New York in questo caso frenetico poi ci sarebbe tanto da dire qui è una delle cose che rivediamo nelle delle altre scene ci sono coppie vele barchette padre e figlio c'è una divisione per elementi quindi abbiamo anche in questo caso qui sostanzialmente un vuoto è una texture che poco ci interessa ai fini di narrazione però questo diciamo i due terzi di sinistra sono dove lui compone la scena il resto è cornice molto bello questo lavoro per piano è un po' più complesso il fatto di come tu credi a prescindere degli aspetti fotografici dove tra l'altro vedi tutto messo a fuoco anche ancora una volta anche gli aspetti più delicati i riflessi della vetrina con i giocattoli di vetrina quindi non solo quello che c'è alle loro spalle ci sono vari volti io guardo la tua stessa filosofia più piccoli c'è una persona di spalle con cappotto scuro ma poi c'è un volto di una donna di un uomo e tra la donna con il cappotto impermeabile chiaro si vede una in concomitanza dell'albero che cammina e tutto perfettamente a fuoco la barca grande in corrispondenza ovviamente di lui e la barca piccola che non è solo perché lui papà è il numero grande perché lui è in bolletta si è licenziato incautamente e il bambino che vuole quella grande lui dice no no quella piccola e lui gli dica quella grande e si arrabbia lui poi entra non sapremo quello che succede e Woody Allen poi si guarda in tasca per i pochi soldi ma non è tanto questo nemmeno importante se tu scrivi una sceneggiatura anche volendo con tutti gli riferimenti più puntuali possibili immaginabili addirittura con i movimenti di macchina non è detto che poi venga ripresa in quel modo se poi non è così puntuale e precisa la stessa sceneggiatura verrà messa in essere da dieci registi diversi in maniera totalmente diversa non solo per ritmo ma per sensibilità perché si focalizzeranno su una cosa più in altra perché tu qualunque scena la puoi inquadrare i mille amori diversi non campo contro campo campo lungo come si chiama da dove è intradurata questa scena dall'interno del negozio è fondamentale lui poteva essere inquadrata dall'esterno lateralmente con stacchi eccetera cosa succede verso la fine del film quando loro sembra attraversare un momento gioioso ma non è gioioso è una tempesta che da lì comunque dovrà esplodere la gita in macchina queste due coppie dove in realtà poi non sono due coppie perché due uomini contengono clandestinamente la stessa donna ma loro passeggiano dall'interno della vetrina noi ancora non sappiamo prima dall'esterno poi contro campo dall'interno non sappiamo perché lui rimane così non è il negozio non è la barchetta è la sua vita che è stata messa in vetrina che verrà messa di pubblico dominio perché poi lui scopre che poi il libro l'ha scritto veramente e c'è la stessa tipologia di inquadratura prima dall'esterno e poi dall'interno quindi lui non riesce a controllare la sua vita che sia cosa di regalare al figlio e impedire alla seconda ex moglie di scrivere questo romanzo che tra l'altro lei anticipa sto già trattando per i diritti cinematografici meta meta perché poi lei l'ha scritto il libro qua sono tutti intellettuali che citano Van Gogh come si chiama ma poi né Diane Keaton né Woody Allen né Isaac il suo amico questo uno addirittura piuttosto che fare un figlio o scrivere il romanzo da non so quanti anni non viene specificato ma da tanti anni come fanno gli uomini in crisi in mezz'està piuttosto di affrontare il fatto che bisogna diventare adulti si compra la Porsche che uno degli stereotipi più celebre che ti diceva la crisi di mezz'età ti compri la Porsche chiaramente se te lo puoi permettere allora altrimenti compri la Laika no sto scherzando non è vero questo no allora parlando di fotografi allora c'è sempre in queste G perché poi io direi possiamo anche andare in conclusione con un paio di schemi che sono più che altro tecnici io ritorno su quella che di cui tu hai accennato prima ok questa dove questa è una ripresa alla Fanon fotografo Fanon lui qua fa una cosa che c'è questa marcia a piede circolare lui per creare poi questo movimento si alza cioè si alza a tre metri e mezzo d'altezza quindi ovviamente non ci sono droni e lo fa sulla scaletta si mette in alto perché e lo fa proprio perché lui vuole creare questo elemento compositivo tra i due che corrono questa cornice anche con il lampione che è presente qua e poi davanti come tutte le storie d'amore un po' correre su quello questo non è il lago è la pozzanghera che si è formata per l'acqua sul terreno scivoloso sul terreno scivoloso che può sembrare da lontano un baratro un mare profondo un oceano ma nella realtà al massimo puoi scivolare però è simpatico questa cosa e poi Guido andrei ancora avanti perché così poi questa ancora una volta parlando di terreno scivoloso ma era aggregata per un altro modo gli abbinamenti le coppie che sono uno dei punti si vedono gli insiemi quindi sono io direi anche destino comune le due figure che sono qui con l'ombrello l'altra fotografia che è qui con l'ombrello sono due sono coppie e si ripete questo concetto della coppia qua e anche questo concetto della coppia qua quindi gioca anche su questi elementi ricorrenti e duplicati potrebbe essere diciamo io qua mi azzarderei e mi mordo la lingua in una eccessiva analisi sofisticata forse un po' forzata che se quelle coppie sono state così brave e prudenti a proteggersi dalla lui non sarà trattanto prudente a proteggersi dall'andata all'amore dalla pioggia eccetera però affidiamolo di più a un fatto interpretativo poetico questa cosa chiede un'interpretazione poetica secondo me rispetto alla volontà di quello quello che invece è importante è che gli oggetti che loro citano il cubo di Plex il qualora sono legati a quest'idea del vuoto intellettuale di questa middle class che alla fine è sostanzialmente arida questo ineradimento tant'è vero che l'unico personaggio nobile poi lo vedremo nelle immagini che ha scelto soprattutto quella bellissima è appunto interpretata da Mary Hemingway che non viene attratta da questo gioco pseudo intellettuale morale di questi di questa particolare classe sociale new yorkese perché attenzione New York all'epoca non aveva 9 milioni di bianco di commercio però è sempre una super metropoli sì allora facciamo un altro passettino in avanti questo che ha senso solamente per una cosa che è il momento in cui i due si confidano e lui dice guarda che noi ci siamo lasciati il signore alla sinistra io per i nomi sono sono completamente negato dice no ma io noi ci siamo lasciati quindi tu puoi procedere con quella che era poi la sua amante e poi è un momento bello perché lui perché Woody Allen si rasserena rispetto a questa questione dice ok allora posso procedere ancora una volta in chiave alta quindi ancora una volta luminoso una scelta di una scena luminosa questa quella successiva lui è Yale Marfit però è anche qui particolarmente significativo che avviene in un campo di battaglia chiaramente fortunatamente essendo un film romantico non un film militaresco qual è il campo di battaglia tipico degli uomini lo sport dove rivaleggiano e sceglie lo squash perché mille ragioni può anche essere di budget più intimo più raccolto ma anche logico perché ovviamente devi scegliere un campo di battaglia dove si devono fronteggiare solo due due antagonisti quindi non poteva essere il calcio la palacanestro eccetera dopo la sala del tennis dato che sono li devi mettere a fianco perché stanno contendendo la stessa donna anche qui poi sarebbe molto carino che era Woody Allen perché a me non piace fare forzature interpretative però diciamo ha una sua logica narrativa il campo di battaglia è lo sport dei maschietti a chi è più bravo chi è più bravo vince il trofeo chi è più bravo vince il trofeo tra virgolette non stiamo mascolizzando non c'è nessun femminismo siamo chiave cinematografica stiamo analizzando il film e ovviamente c'è sono di spalle sono di spalle perché sono due ipocriti sono due ipocriti perché stanno mentendo a loro stesso e all'amico quindi è giusto non guardarli in faccia perché no ma è finita anzi vai tu no ma sei da là e invece sappiamo poi per chi ha visto il film noi ragioniamo in chiave qui prettamente tecnica quindi ci scuserete se non sono propriamente dei spoiler però lo dobbiamo accettare il fatto che noi comunque abbiamo l'immagine complessiva del film di quello che succede quindi qua è diciamo scolasticamente d'obbligo ragionare in questi termini non è la recenziottina di uno youtube no spoiler no spoiler se permettete è un'altra cosa questa chiacchierata allora facciamo un altro passo perché ci siamo quasi vabbè scena divertente cioè dal mio punto di vista divertente ti attrai no perché poi devi avere sempre questa capacità di tirarti dall'attenzione ed è uno dei pochi dialoghi che sono composti in questa maniera quindi c'è Woody Allen con il teschio qui allora io non ci vedo però è un limite mio non ci vedo un'assonanza rispetto allo stare alla storia se non quella dello spettro di quello che poi gli sta dicendo che lo terrorizza e quindi lo riduce quasi in questa maniera la vedo più che altro l'immagine divertente senti noi dobbiamo credere a quello che ci raccontano gli autori delle loro storie posso aiutarti da storico gli fu chiesto perché c'era un bellissimo libro intervista lungo tutta la carriera di questa trovata geniale e lo scheletro ho detto no non fu mia manca forse dello sceneggiatore dello scenografo la trovammo lì diciamo era carino poi chiaramente possono venire delle idee nel senso però non era scritta in sceneggiatura ci deve essere uno scheletro questa per stessa ammissione lungo al corso della carriera nell'intervista di Woody Allen che poi diventa geniale particolarmente divertente sì la cosa ancora più interessante è che il film finiva così ma Woody Allen non era soddisfatto credo che fosse la stessa moglie di Dustin Hoffman che recita nel film a parte di Emily Annie e Brian Hoffman noto che Woody Allen era un grande appassionato di basket credo che sia tifoso dei Knicks in questo siamo rivali perché io sono tifoso di Lakers non perché sono Los Angeles inno di filosofia comunque si conobbero un conto di basket molto più probabile a New York visto che Woody Allen è volato a Los Angeles veramente molto raramente quindi recita per il film Woody Allen è la stessa Hoffman e non solo il film non funziona può finire così e poi fu trovata questa quest'idea che è dichiaratamente di nuovo cinematografica perché il finale del film è ispirato a Ceplino a luce della città quindi è una scena che intanto è un rinfaccio morale di due moralisti che avevano molto da farsi perdonare e il falso dello scherzo lo trovavano così in quest'aula universitaria non stonava i film di Woody Allen costavano molto poco all'epoca lui aveva totale libertà artistica ma all'interno di un budget che non era un budget di grandissime disponibilità una delle ragioni per cui tutti i primi film di Woody Allen avevano lui come attore poi gli sarà anche piaciuto lui lo diceva perché io non avevo il budget per assumere un deniro pacino un attore di primissima fascia allora per risparmiare ci davo io questo esempio è credere nella prima parte della sua carriera quindi credo che sia dobbiamo credere come ho detto è stato casuale poi chiaramente ci sta bene perché tra l'altro chiaro poi è casuale ma in direttura della fotografia decide di mettere uno tutto spostato a destra una a sinistra giocare su questa è certo gli dice se rimettimi lo scheletro però poi dopo è lui che deve sistemare nel senso l'hanno trovato lì ma poi l'utilizzo che attenzione poi quando l'ho detto casuale fino a un certo punto però l'utilizzo che però la fanno è assolutamente beffardo e coerente consapevole consapevole e coerente con quella che è stata la narrazione sia diciamo della storia e sia di come viene raccontata questa storia allora tre immagini in sequenza sempre come tecnica di composizione qui lo rivediamo è una anche in questo caso tutto a sinistra ambiente vuoto una due qui ancora una volta il pieno lui sdraiato il vuoto tra le altre cose dall'altro lato quindi è un piano sequenza però correggimi se sbaglio quindi si spotta con la videocamera e inquadra lei che sta scrivendo a macchina sì sono nella stessa casa esatto però vedi sono nella stessa casa ma non sono nella stessa stanza e c'è una distanza emotiva intellettuale filosofica anche di di orizzonte non solo culturali di vita ma perché non fai questo tu dovresti far quello e lei dice ma non solo non mi sento sminuita nel mio ruolo intellettuale a fare la normalizzazione là ma mi riesci pure a fare mi pagano bene eccetera però c'è questa questa simmetria come ti dicevo vedi Gordon Wins è attento a questo punto Ryan Keaton deve essere inquadrata tutta a destra perché Woody Allen è tutto a sinistra anche se io avrei potuto inquadrare in un altro modo perché tanto non sono nella stessa stanza quindi non c'è un errore di discontinuità della regola dei 180 gradi e invece lui sceglie perché più armonico è la sua idea di cinema quindi va insomma non so rispettata apprezzata attenzione che per completezza narrativa giustamente Francesco vi faceva vedere questa idea di composizione dell'immagine con per esempio il bacio di Yale con sua moglie ancora ipocrita perché poi e di nuovo sono spostati da una parte dell'altra che però avviene in un altro momento della storia e chiaramente casa loro invece Woody Allen da Ian Kito avviene nello stesso momento nella stessa scena nella stessa casa sì infatti erano scene differenti no io lo leggo no non è un errore da parte tua perché tra l'altro c'è una ragione era solo per giustamente casomai qualcuno non ha io me lo sono rivisto stanotte il film perché per un senso rivedo sempre il film quando lo devo presentare o parlare anche se uno dice no me lo ricordo bene ma perché è un mio modo di fare quindi diciamo è una visione molto fresca la metto a vostra disposizione per chi casomai non ricorda la cronologia sia esatta esatta degli eventi no allora perché se lo vedi semplicemente come composizione quindi il fatto che lui ha messo sulla sinistra per esempio in questa immagine lui è sdraiato sulla sinistra e occupa praticamente un terzo della scena e fai una lettura se lo leggi dal punto di vista dei pieni e dei vuoti Woody Allen è un pieno dopo c'è il vuoto il vuoto è la distanza tra i due sta cominciando ad aumentare la distanza e infatti in mezzo c'è il vuoto cioè i due sono nello stesso ambiente ma cominciano ad essere distanti rispetto alla situazione dove sono nello spazio al planetario e loro sono collegati però c'è un di più ancora più più raffinato ed è questo fai caso che tu non hai visto il film nessuno conosce il film non sa niente del film e vedi la prima immagine con Woody Allen proviamo a fare questo gioco tutto in diretta un'immagine che non è una diretta sì sì ma in diretta tra di noi non c'è trucco non c'è inganno non c'è l'intervento del pubblico da casa questo si lo so beh la classica situazione dove tu stai a casa in relax una situazione di confortevole eccetera questo potrebbe trasmettere l'altra situazione è una situazione dove tu sei iperattivo non dico un po' nevrotico però la sigaretta in bocca c'è una certa rigidità invece in Diane Keaton no? è invece esattamente il contrario e lui rigido non solo emotivamente ma anche culturalmente perché o si fa il libro buono della vita o non sei uno scrittore intellettuale ma chi se ne frega io e questo lo percepiamo solo tramite la narrazione detto e di nuovo tutto nasce se vi ricordate dall'inizio del film che vi ho detto guardate quanto è complesso sembra solo un bell'incipit molto raffinato e tu lo vedi così e invece già detterà la linea emotiva e psicologica dei protagonisti e qual è questa linea emotiva? e Francesco si sottolineava sull'aspetto giustamente fotografico che è tutta io ve lo dissi un film di pieni e vuoti girandolo in formato anamorfico queste figure dall'universale New York la città che non dorme mai tutti questi grattacieli sempre di più la folla la folla due che giocano a basket e queste coppie si va a stringere eppure questi personaggi sono tra virgolette sottodimensionati proprio dall'utilizzo tra virgolette metaforica dall'utilizzo del formato panoramico assolutamente cioè sono non schiacciati sottodimensionati è diverso non è l'ambiente la natura matrigna che ti schiaccia come a volte avviene nei film è che loro si sentono di più come capita questa è una cosa interessante di film di Vodiale è uno dei inizi tipici poi della società moderna metropolitana un po' nevrotica che le persone si credono molto meglio di quello che sono si sovrastimano molto più bravi più e invece questo formato questa tecnica fotogramma la composizione del fotogramma e tutto tende a sottodimensionare o quantomeno fotodimensionare da un punto di vista visivo perché altrimenti io ti avrei messo al centro in grande e tu domini lo spazio no ma allora c'è una cosa molto interessante che poi il cambio di angolo della lente altera il rapporto tra il soggetto e la scena tipicamente cioè quando tu utilizzi un grande angolare in anamorfico ancora di più quando tu utilizzi un grande angolare tu avrai a parità di distanza con il soggetto una scena che è più grande quindi stai in qualche maniera andando a ridurre il peso di quel soggetto rispetto all'ambiente ed è molto interessante ma pure questo faremo un'altra faremo una live su questo discorso allora andiamo avanti allora io direi che noi possiamo chiudere tranquillamente con questa nel senso che qua un fotografo normale si dovrebbe alzare in piedi e dire va bene non ci arriverò mai ci arrivano perché non è che non ci arriva però vedi te lo dico dal mio punto di vista esiste un tratto di cinque minuti esatti nel quale tu non in analogico cioè in analogico non con il digitale quindi stai parlando di qualche cosa che è più rigido specialmente il film che dopo non va stampato no quindi non puoi riesporre esiste un momento di cinque secondi nel quale tu vedi questa luce di sfondo vedi il contorno delle luci perché dieci minuti prima non le vedi dieci minuti dopo tu cominci a vedere le luci che ti brillano e che ti creano poi questo ritmo e poi la composizione ancora una volta in anamorpico in un punto che un fotografo ma dove funziona però perché lui ha creato il distacco vedi il concetto il contrasto tra il pieno e il vuoto soggetti in ombra sfondo in qualche maniera in luce quindi i soggetti risaltano a proposito del fatto di utilizzare lo sfocato per risaltare o meno lui esalta attraverso il contrasto tra le teste dei soggetti e lo sfondo se l'avesse messa sul muretto qui a sinistra ovviamente non avrebbe visto niente ma vedi questa immagine quanto è importante a precedenza che poi è diventata qua lo possiamo dire con grande serenità perché io sapete odio le frasi fatte e i luoghi comuni iconica anche l'immagine del manifesto questo non è il ponte di Brooklyn ma di Queensburg fu girata più o meno verso le 5 del mattino proprio perché Gordon Winsey come vi ho detto prima era uno che perfezionista esigeva il tempo necessario per girare una cosa e l'attrezzatura necessaria che non significa spendere molto più soldi di quelli che servono però se servono con le luci con i cavalletti servono che è molto bella sempre di nuovo quest'idea perfettamente bilanciata della luce del colore delle ombre loro se fossero in corrispondenza dei pilastri in pietra li vedremmo meno bene sono in corrispondenza di un vuoto come è noto poi quella panchina non esisteva la dovette portare la produzione perché nulla è casuale nel cinema ricordate ha detto ah non c'era perché se tu vedi il film ovviamente queste due figure anche se sono in silhouette quindi tu non vedi il primo piano vedete quanto è intimo questo film qual è la massima forma e espressione cinematografica dell'intimità andare sul primo piano perché i attori vogliono i primi piani perché dove puoi far vedere quanto sei bravo a recitare rispetto al teatro tu hai la possibilità di avvicinarti più possibile pensate i primissimi piani degli occhi di Sergio Leone diciamo pur non vedendo non solo i primi piani ma addirittura minimamente i tratti somatici delle persone sai che sono loro perché hai visto il film e sai che cosa sta succedendo e di quanto di più romantico di nuovo stupchevole ma se questa immagine fosse solo così una persona non conoscesse niente di questo film non penso che gli trasmetterebbe un'idea di ostilità comunque gli chiamerebbe un pensiero romantico perché che cosa c'è di più di romantico di condividere all'alba o al tremonte in questo caso è all'alba quando noi hanno fatto le ore piccole parlando in macchina poi andiamo a vedere il sole che sorge con la nostra innamorata il vostro innamorato quindi è un'immagine che pur essendo perfettamente incastrata in questo film in questa narrazione in questa idea di narrazione è riuscita a diventare iconica a far diventare un oggetto relativamente semplice come un ponte perché il ponte non viene pensato prima soprattutto in quegli anni era molto pratico acciaio mattoni acciaio addirittura un oggetto legato al romanticismo ma devi essere un artista anche se Gordon Williams non amava essere definito così però lo era sono pienamente d'accordo tra le altre cose tu dici iconica ed è così perché è poi la sintesi estrema allora è più facile raccontare una storia con dieci fotografie iconica nel senso proprio nostro europeo italiano che molto spesso ormai i termini vengono utilizzati male perché la gonna di Mary iconica perché tu ormai puoi non veder nulla vedi solo stilizzato il disegnino e sai che Mary in quanto la moglie è in vacanza non hai bisogno di fare il disegno più preciso di questo mondo almeno nella mia concezione del termine iconico che è molto più serio restrittivo e mitologico diventa allora questa immagine diventa un'icona ok ma questa immagine è anche concetto differente la sintesi estrema di tutto il film cioè anche se tu non vedi le relazioni tra persone vedi netto chiaro lui che alla ricerca poi in maniera romantica lui e questa è una scena romantica di un amore di una donna che non è definita cioè perché poi quando lei lo lascia noi possiamo spoilerare tanto vecchio quindi quando lei lo lascia lui per paura ritorna un'altra volta e secondo me ci è andato meglio da da mariel emingway per per dire no ma dove vai non partire per londra resta qua quindi chi c'è c'è va bene basta che io che ho paura non stia da solo io in questa immagine non vedo questo è ispirato a luce della città quando la 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 femminile ha acquisito la vista lei non sapeva chi era il suo gentiluomo no chaplin si e la marie emingway rappresenta tutto ciò che non sono loro non solo la purezza si e la l'umiltà di di crescere culturalmente infatti lei può andare a studiare lì ma personaggio calmo rilassato non neurotico ma paradossalmente è una cosa che lui improvvano più volte la maturità che queste persone pur avendo 42 anni nella finizione cinematografica non hanno ancora e mai Budiale non è stato forse in maniera così sbaccata anche uno sguardo ottimisti verso il futuro deve avere fiducia nelle persone è lei che insegna a lui lei insegna devi avere fiducia nel futuro nelle persone disse una volta adesso non ricordo ero veramente molto piccolo stiamo parlando proprio del 79 la critica quindi non lo cito non per mancanza di rispetto perché è vero che è vero credo che qualche critico new yorkese disse quando in futuro vorranno capire come si viveva a New York basterà vedere Manhattan credo che sia stata una delle migliori critiche del film perché rappresentò ovviamente anche qui sempre lui si riferiva a uno spaccato di una particolare classe sociale oggi bisogna essere molto precisi perché con tutte i nevrogici che ancora più sono in giro è chiaro che non è lo spaccato dei neri di Harlem di chi doveva sbarcare il lunario che comunque si potrebbe permettere di speculare sui massimi sistemi pur essendo un uomo molto piccolo Tenti Guido a parte il fatto è stato io ti devo dire piacevolissimo ora al di là dell'utilizzo che faremo di questo contenuto che lo pubblicheremo di sicuro perché così lo condividiamo però a parte tutto e mi auguro che sia stato interessante però a parte tutto io mi sono sinceramente divertito diciamo questo a me fa piacere devi sapere che nella mia vita abbiamo parlato del telefono mettiamo a conoscenza le amiche e gli amici che ti seguono Francesco è stato molto carino con me veramente molto carino anche il paziente io sono molto di stiro all'utilizzare il web perché la mia vita si svolge tutta diciamoci anatograficamente dal vivo e però una sola regola cioè dal vivo dalle serate le lezioni deve essere un piacere o non un obbligo nella vita abbiamo tanti obblighi alcuni anche particolarmente rognosi che si devono comunque rispettare adempia quindi mi fa piacere quando anche uno strumento che utilizzo poco e male rispetto a te bene con frequenza se tu mi dici che è stato piacevole almeno in questo ritrovo la stessa mia vita che sviluppo nel vivo mi metterebbe un po' tristezza e disagio e dici guarda è stato tutto molto brutto perché spero soprattutto quella è la cosa più importante chiaramente il mio ospite host all'angosassone doveva trovarsi bene se no sarebbe stato il primo fallimento da parte mia che poi le persone quando lo vedranno spero nel più formato più integrale possibile anche se so che sarà lungo però a me non piace io non ho mai fatto quelle che chiamo lezioni ma conversazioni tranne quando sono chiaramente in aula per umiltà nonostante ci sono stati anche degli attori che sono venuto ma noi anche al centro sperimentale diciamo così conversazioni chiamatela come volete conversazione lezione approfondimento scegliete voi il termine è rivolta chiaramente a chi ha desiderio di capire che c'è molto di più nella fotografia nello specifico o nel cinema o queste due arti e tecniche che assunescono rispetto a ah è bello ah mi è piaciuto ah è bello ah mi è piaciuto abbiamo ridotto tutto mi è piaciuto voglio sapere mi è piaciuto e quindi tu ti senti confortato che metti c'è la youtuber che dice che mi è piaciuto perché siccome è piaciuto comunque a te vuoi sentirti meno solo e ti è piaciuto a me non interessa dirvi se mi è piaciuto o non mi è piaciuto mi interessa smontarlo io nel mio modestissimo canale ma proprio modesto non ho mai scritto recensione ho scritto un'analisi perché tra l'altro è un'analisi non è l'analisi quello è non si può io cerco di smontare il film in maniera molto più semplice quando vedete noi abbiamo scelto appena 26 immagini e ci abbiamo dedicato un sacco di tempo e non abbiamo messo il sonoro perché con quello cambia tutto allora Guido io no alla nostra età ti dico cose che non mi piacciono non le faccio cioè ma questa è una regola proprio per me tassativa a me piace il canale youtube ma piace non tanto per il canale ma per il concetto di comunità che c'è alla base e questa cosa la trovo molto stimolante da un punto di vista culturale tu hai una comunità crei una comunità e c'è una convergenza su un interesse io tutto quello che vedo che non è pertinente rispetto al canale rispetto a quello che può suscitare un reale interesse non lo faccio cioè non sono devo fare un video polemico sugli influencer cosa che io non sono che l'influencer vende un prodotto io non vendo neanche una competenza a me piace parlare qui sul canale alla mia comunità punto e questo è il principio e faccio solo le cose che mi piace fare ma diciamo io quando devo fare un discorso lunghissimo poi non so se rientrerà in questa chiacchierata verrà tagliata ma veramente molto lunga e complessa che non facciamo avrete capito per le tante persone che visto che ti seguono che mi conosceranno la prima volta sperando di non andare a noia l'imbarazzo che ho di parlare per me però io sono arrivato molto molto tardi tra l'altro durante la pandemia con tutte le difficoltà del caso anche tecniche perché doveva avere un certo tipo di sviluppo e apporto mi sono trovato veramente tra l'altro solo in casa quindi c'erano un sacco di difetti senza barbie c'erano i capelli giganteschi in sanzo di cose ridicole che riguardarle farà sorridere però erano giurati durante la pandemia ma molto molto tardi se considerate la mia vetusta età non voglio dire controvea voglio e nel corso della vita sono tanti anni ormai che faccio la sei ma proprio tanti non c'è stato mai un momento che le persone quando diciamo il web ha preso sempre più piede ma noi dobbiamo sentire tante persone perché tu no ma noi ti vogliamo sentire anche quando non ci stai quando noi siamo in un'altra parte tante persone dicono no mi sento diciamo inadeguato ed è stato un tema ricorrente di quello di ma tu non parli e dobbiamo sentire che è un controsenso che tu non parli però diciamo è una parentesi enorme quella che dobbiamo quello che potremmo aprire diventerebbe poi noiosa autoreferenziale meglio che no io penso sempre che sono mille difetti e che si deve migliorare però la cosa importante è parlare di quello che si conosce quello sicuramente ho dedicato tutta la mia vita allo studio del Cina e continuo a considerarmi un umile studente se continuo a studiare è una continuazione però chiaramente se mi chiamano una cosa che non so anche se dallo studio a Sardino dire di no perché non ti improvvisi a me certo su wikipedia impari 4 fesserie e vai avanti ma non funziona così detto è un argomento che chiaramente mi appassiona mi conosce e poi le collaborazioni con persone più brave più esperte più lucide come Francesco Di Me possono essere solo un raccoglimento personale umano e anche tecnico e quindi io intanto ti ringrazio per il pensiero penso che eri maledettamente un biraco quando hai avuto questo pensiero però a parte le battute ci interessa sarà carino poi vedere i commenti perché poi molto probabilmente mai dare per scontato nulla nella vita però ci potranno essere i commenti molto tecnici giustamente perché essendo un canale tecnico di persone che poi mette in essere questa loro capacità esperienza quello sarà un altro aspetto sarà un terzo tempo molto interessante quello poi che seppure a distanza seppure solo in forma scritta a leggere sarà un'ulteriore forma di comunicazione di apprendimento che io seguirò con attenzione mi andrò a leggere sperando che non siano troppo severi i commenti delle persone no ma non è io ti dico è una platea buona tra le altre cose su temi del genere che sono avanzati cioè o ti interessano li segui quindi poi dopo entri nel merito in maniera sensata oppure abbandoni quindi vediamo però io ti voglio dire 27 tra i 2024 18 e 28 se facciamo una corsa esce questa sera la premiera ma non ti faccio perdere tempo buon lavoro buon montaggio un saluto a tutte le persone della tua community un abbraccio a tutti e arrivederci presto ragazzi poi sarete aggiornati su questi mix di specialist e fotografia e cinema un abbraccio a tutti grazie mille a prestissimo ti aggiorno tra poco se ce la faccio ok così è calda calda io sto a casa a computer ok ciao grazie mille a presto a presto